Forse non è più l'originale, quindi lo Sloanus devono lavorare, gente che mangia anche loro, carrube, robe... Quindi signori, lo Sloanus con new entry, pupazzetto di vomitino! Ma cos'è? Ma senta... Ma non è come quello di... Ma non si potrà mica lavorare così! Oggi siamo rinnovati! Ma cos'è contento cosa? Grazie dell'invito! Ora abbiamo... Che guardi così male! Allora, adesso per io... Facciamo una vomitata, guardate, è una vomitata per cominciare! Ecco, vedete? Ma non è il pupazzo che cos'è? È un pupazzo raffinato che voi avete voluto così, d'altra parte l'operazione è stata lunga, è venuto fuori questo, cosa... Sì, peggio di prima, direi! Allora, io ho chiesto di restituirmi un pupitino! Non che uno mi fa... L'hanno fatto in radica di noce! Proviamo di nuovo! Questo qui non è in legno perché è in gomma, vede? Eh, ecco... L'hanno fatto con la mamma! È anche schizzinoso! Perché non è? Lei non si agiti e dica cosa... Da questa mano non serve più a niente, non posso darla a uno che così... No! La prego, signor Peo! Signor Pericoli, senta! Signor Pericoli! È una scena pietosa! E noi ci conosciamo di un altro siciliano! Non lo voglio di questo! Massimino! Posso fare una domanda? No, grazie! Vabbè, ho buttato via il tasto! Ecco, meglio! Ecco, però anche qualche'am bitta! passo aere da passare con i Ship Agreement. Poi che avいうこと?